Lentini, disagi idrici, mancanza d'acqua al centro storico, in atta riparazione di una condotta. Estate, disagi idrici alle porte. L'amministrazione comunale comunica alla cittadinanza che a causa di un intervento di riparazione guasto alla rete idrica, riscontrato in via Vittorio Emanuele III, domani mattina a partire dalle 7 e presumibilmente fino alle 11, potrebbe verificarsi mancanza d'acqua nelle zone Santa Maria Vecchia e centro storico e una contestuale diminuzione della pressione in altre zone della città di Lentini. Tale intervento si rende necessario in seguito alla impossibilità riscontrata in interventi precedenti di riparare la tubazione e si dovrà procedere pertanto con la sostituzione integrale. Inventiamo pertanto i cittadini a rifornirsi preventivamente con una scorta d'acqua.